Appuntamento dedicato ai più piccoli in occasione della ricorrenza natalizia alla biblioteca della regione Piemonte con le letture teatralizzate di Un Favoloso Natale. A coinvolgere i bambini delle scuole elementari, gli attori della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. Con l'occasione si porgono i migliori auguri di buone feste.